Lunedì 15 gennaio 2018 Buongiorno, bentrovati al primo appuntamento della settimana con la nostra rassegna stampa Martino 6 che si apre come sempre con la lettura e la visione delle prime pagine dei quotidiani abruzzesi Partiamo dal centro, dall'edizione di Pescara Il titolo principale, lo vedete alle mie spalle, riguarda l'ennesimo incidente accaduto nelle ultime ore all'interno di una galleria In questo caso della variante, la strada statale 714, due feriti fortunatamente non gravi Questo è il bilancio dell'incidente Il terzo dall'inizio dell'anno sulla circonvallazione, vedete il titolo di apertura dell'edizione di Pescara E poi in alto si parla dei 30 anni dei laboratori del Gran Sasso E Mattarella festeggia con gli scienziati proprio questa importante ricorrenza Il Presidente della Repubblica sarà questa mattina proprio presso i laboratori del Gran Sasso Per questa cerimonia, vediamo anche gli altri titoli In alto i conti della sanità regionale spesi 133 milioni per ricoveri e cure fuori dall'Abruzzo E poi vedete a centro pagina lo sport perché è fermo il campionato di Serie B Che tornerà sabato prossimo con il Pescara impegnato allo Zaccheria di Foggia Ma ovviamente a tenere banco in questi giorni e soprattutto il mercato con il Pescara Che perde un altro pezzo importante per quanto riguarda la squadra Perché Benali, il 25enne attaccante anglo-libico saluta e passa al Crotone Prestito oneroso per il giocatore adriatico Dunque si trasferisce in Calabria e torna a giocare in Serie A Vediamo anche gli altri titoli nelle cronache Pescara ubriaco in auto, vedete di spalla e contromano, aggredisce vigile E poi Rigopiano spunta l'indagine del Ministero il 18 gennaio Fra tre giorni ci sarà il primo anniversario della tragedia dell'hotel Rigopiano di Farindola E poi il corteo dei cittadini, basta spaccio e degrado a Montesilvano Andiamo a vedere la prima pagina del centro, edizione di Chieti Lanciano Vasto La cronaca giudiziaria in alto, in apertura, filmati sexy con la sua ex a processo Vasto riprende di nascosto i rapporti con la fidanzata E poi li mostra agli amici Vedete a centro pagina il richiamo di sport come ogni lunedì Che riguarda in questo caso il campionato di Serie D, l'unico campionato di calcio nazionale Che si è disputato ieri, in questo caso Amaro il derby per la vastese KO al De Marsi di Avezzano Con la rimonta sfiorata dai biancorossi che a dieci minuti dal termine perdevano per 3-0 E poi sono riusciti in poco più di un minuto a segnare due gol E sono andati ad un passo, arrivati ad un passo dal pareggio Due pali colpiti da Leonetti, soprattutto il secondo proprio a pochi minuti dalla fine Avrebbe regalato, in caso di gol, ci sarebbe stato il pareggio clamoroso Per 3-3 della formazione di Gianluca Colavitto In eccellenza Chieti ha il quarto sigillo consecutivo Ora la sformazione è teatina E al secondo posto Vediamo gli titoli che riguardano le cronache da Chieti e provincia Siamo a Lanciano, barista aggredito con sputi e pugni da un ambulante Poi Chieti e domiciliari ma spaccia cocaina da casa E poi Francavilla, ne parlavamo pochi istanti fa Terzo schianto nella galleria con due feriti Siamo all'edizione di Teramo del centro concorsone ASL Attesi in 5.000 L'azienda schiera 130 dipendenti per controllare l'esercito di aspiranti infermieri E poi vedete il richiamo che riguarda il calcio Il calcio di eccellenza in questo caso Con i riflettori puntati sul Real Giulianova Un Real Giulianova d'applausi Fa tre gol allo spoltore E consolida il primo posto in classifica Nel campionato regionale di eccellenza Le cronache Giulianova è morto l'imprenditore Cervellini E poi va a fuoco deposito dell'ex psichiatrico a Teramo E poi allarme Campotosto Diga la regione l'Enel dovrà aiutare i sindaci Chiudiamo per quanto riguarda le prime pagine del centro Con l'edizione di L'Aquila Vezzano sul Mona Laboratori Oggi arriva Mattarella E questo è il titolo che riguarda ovviamente L'edizione aquilana del centro Il capo dello Stato in visita per i 30 anni Dell'Istituto di Fisica Nucleare Vediamo in alto un titolo che riguarda la Valle Peligna Lotta al gasdotto Casini ci ripensa e ritira le dimissioni Dunque il sindaco resta il sindaco di Sul Mona Anna Maria Casini Vediamo anche gli altri titoli della prima pagina del centro Edizione dell'Aquila In questo caso si parla dell'Avezzano È stata la squadra del giorno ieri in Serie D L'Avezzano che come dicevamo prima ha fatto suo il derby Battendo per 3 a 2 al Dei Marsi la Vastese L'Aquila rimonta in 10 con l'Avis Pesaro E ferma sul pareggio la formazione marchigiana Cambiando pagina l'Aquila, la polemica, il PD Biondi gioca sulla pelle degli Aquilani Polemica politica nel capoluogo di regione Campo Imperatore non si scia Niente rimborsi degli schipass E poi a Vezzano sotterrano droga per lo spaccio 3 arrestati Andiamo a vedere anche la prima pagina Dell'insetto Abruzzo del Messaggero Il titolo principale riguarda e arriva da Teramo Incubo, nube tossica, brucia all'alba un locale inutilizzato Dell'Asl in contrada Casalena Immediate le analisi dell'Arta sui fumi L'incendio causato dai clochard Vediamo altri titoli Pescara, due feriti sulla variante Sud Nel territorio di Francavilla Nuovo incidente nella Galleria Maledetta Poi vedete l'articolo di Spalla La visita a Mattarella in Abruzzo Per i 30 anni dei laboratori del Gran Sasso Quinta volta in Abruzzo per il Presidente della Repubblica E poi Rigopiano Le nuove denunce Le reazioni dei familiari Telefonate della vergogna Quanti errori Vediamo anche altri titoli In basso Il Montepulciano D'Abruzzo festeggia 50 anni Mega brindisi a Milano Poi il dopo sisma Chieti Palazzo d'Achille Rinasce Grazie all'arte E in alto Invece ci sono i richiami Che riguardano lo sport Serie B Pescara Benale al Crotone Ormai operazione conclusa Rugby L'Aquila K.O. Ma è già in pool promozione Serie D Avezzano e Francavilla Derby vincenti Con Bastese E Nerostellati Pratola Queste le prime pagine Dei quotidiani abruzzesi Oggi in edicola Possiamo andare a vedere Invece I titoli principali Dei quotidiani nazionali Partiamo dal Corriere della Sera Sfida di Berlusconi 5 Stelle Una setta Di Maio Ci temono Il titolo che riguarda La politica Siamo in piena campagna elettorale Questa sfida a distanza Tra Silvio Berlusconi E di 5 Stelle E poi vedete La foto In prima pagina Rischio ambientale Affonda Petroliera 32 vittime L'inferno Nel mar Nel mar Della Cina Andiamo a vedere Anche la prima pagina Di Repubblica Fisco Dossier shock 132 miliardi l'anno Di redditi nascosti Studio del Senato Salvini vuole la sanatoria Berlusconi Con la mia Flakstax Meno evasori E attacca Immigrati in Italia Per delinquere Poi questa bella immagine Che riguarda L'Italia Lo sci Perché C'è stata L'incredibile Discesa vincente Delle ragazze Della Valanga Azzurra Che ora si lancia Sui giochi Coreani I primi tre posti Per Federica Brignone Sofia Goggia E Nadia Fanchini Dunque Unplane Dell'Italia Nella discesa Libera Femminile E poi in basso Studenti Via all'iscrizione Per un milione e mezzo Guida Alla scelta Delle scuole E periodo Già di scelta Per le scuole Superiori Prima pagina Del messaggero Roma Lo Stato assume Eccellenze Da Camera e Senato Alla Corte Costituzionale In arrivo concorsi Per 1500 Giovani laureati Presidente Di un'industria Ai partiti Un patto Prima del voto Sulla capitale Come priorità Vedete anche Sul messaggero Sci Trionfi Nella libera In Austria Nel fondo È tornata La valanga rosa Storico podio Tutto italiano E poi la polemica Tra Berlusconi E i 5 Stelle Movimento 5 Stelle Peggio Dei post comunisti E Berlusconi Rilancia La flat tax Andiamo a vedere La prima pagina Del fatto quotidiano In par condicio Scrive il fatto quotidiano Silvio Berlusconi Può Orietta Bertino Berlusconi Monologa Dalla D'Urso Ma il PD Denuncia La cantante Siamo a libero Non ci sono più medici Mentre infuria L'influenza Sanità Pubblica Al collasso Scrive il quotidiano Libero E poi vedete Si parlava Sul fatto quotidiano Della presenza Di Berlusconi Ieri Nella trasmissione Di Barbara D'Urso Calma Sistemo Io le cose Dice L'ex Premier Il sole 24 ore Le nuove vie Del lavoro Nell'anno dei bonus Incentivi su giovani E formazione Più congedi Ai padri Siamo al tempo Altro quotidiano romano La raggi Scatena i vigili Romani Oggi state a casa Allarme multe Più pizzardoni In strada Con la scusa Dell'inquinamento E contro lo smog Il comune intima Andate in bici E niente Termosifoni La stampa di Torino Grasso Detta Le condizioni Alla sinistra Questo il titolo Vedete di spalla In primo piano Che riguarda La politica Nel Lazio Accordo Senza Lorenzin E prova A limitare D'Alema E Bersani Lega piano di Salvini Per un dialogo Con banche E industrie Poi vedete Anche la stampa A tutta pagina Parla dell'impresa Delle ragazze Dello sci Le ragazze Da record Dello sci Italiano E poi a Napoli A Napoli E emergenza Baby gang In dieci aggrediscono Due adolescenti Per lo smartphone Identificati Un tredicenne Ed un quindicenne Siamo al giornale Dossier shock Candidati grillini Otto su dieci Non lavorano La carica Dei disoccupati Scrive il giornale Per accaparrarsi I seggi Sono dodicimila E siamo al quotidiano Di Genova Il secolo XIX Aggressione fascista Interviene il governo Orlando a Genova Un episodio Di violenza Intollerabile E poi vedete A fonda petroliera Disastro ambientale Nel mare Della Cina La nave iraniana Trasportava 136 mila tonnellate Di idrocarburi Tossici Siamo al mattino Di Napoli Il mattino Non poteva che aprire Sull'emergenza Baby gang Nel capoluogo Partenopeo Il branco Vedete Colpisce ancora Botta i neri Picchiati e rapinati Due ragazzini Di origine Marocchina L'ultimo ride A Pomigliano Fermati due Dei dieci Teppisti Uno a 15 anni E l'altro 13 E dunque Non è imputabile E poi La primavera Dei concorsi Lo Stato Torna ad assumere 1500 giovani Di alto profilo Professionale Siamo al secolo D'Italia Grillo Peggio di occhetto Queste Le dichiarazioni Di Berlusconi Che teme I Cinque Stelle Questa polemica Ha a distanza Proprio Tra l'ex premier Il leader Di Forza Italia E il movimento Cinque stelle Secolo d'Italia Ultimo giornale Che abbiamo preso in esame Per quanto riguarda L'edicola nazionale Possiamo tornare Ai quotidiani abruzzesi Tornare al centro Ripartire da pagina 2 Per vedere i conti Della sanità Abruzzese Spesi oltre 133 milioni Per cure fuori regione La mobilità passiva Fa segnare 36 mila Ricoveri Quella attiva E di 24 mila Si va via Per interventi chirurgici Su piede e ginocchio E per fare La chemio Questo è il titolo Di apertura L'agenzia sanitaria regionale Sta intanto Per compiere 20 anni Questo studio È proprio Dell'agenzia sanitaria Regionale In basso Si parla invece Del consorzio Tutela Vini E del Montepulciano D'Abruzzo Che è l'orgoglio Della nostra regione Che festeggia I primi 50 anni Doc Andiamo avanti Siamo A pagina 3 Si parla Dei 5 stelle A Pescara Grillo Di Maio Di Battista Alla tre giorni Dell'Aurum Villaggio Russo Previste 4000 presenze Attesa Anche la sindaca Raggi Programma Spiegato Dalla Pescarese Sabatini Coordinatrice Dell'evento E poi In basso Caso A24 E A25 Fair play Elettorale Berrecchia Melilla Paga i pedaggi Lui ribatte Uso L'autobus Questa la polemica Tra i due Esponenti Politici Verso il voto Si parla Di quello che sta accadendo Delle polemiche Politiche Ne abbiamo Parlato anche Vedendo i titoli Dei quotidiani Nazionali Siamo Invece Alla cronaca Di Pescara Dove si parla Di movida E sicurezza Ubriaco Va contro mano E aggredisce Vigile Piazza Musi Dunque pieno centro Di Pescara Giovane denunciato Insulta la pattuglia Dopo una multa Poi imbocca il senso Vietato E colpisce Funzionario E intanto È stato realizzato Il collegamento Stradale Fra via Ravasco E via Veneto Mercoledì L'apertura Alle auto Di questa nuova strada E poi Porto E diga foranea Il prefetto In capitaneria Incontro Tra Prefetto Basilicata E i responsabili Della direzione Marittima Sui lavori Previsti Dal piano Regolatore Un altro schianto In galleria Vedete il titolo Di pagina Undici Due feriti Dopo la tragedia Di due settimane fa Ancora paura Sulla circonvallazione Tra Pescara e Francavilla Coinvolte Quattro auto C'è stata questa carambola Due persone ferite Fortunatamente In maniera non grave Ma vedete Cosa è rimasto Delle auto Coinvolte In questo schianto La tragedia Di Rigopiano Il ministero Mandò i commissari Dal prefetto Cinque giorni Dopo la valanga Il Viminale Avviò un'indagine interna Per ricostruire Quanto fatto Dall'ex prefetto Provolo Il 18 gennaio Vedete il sommario Del titolo Di pagina Dodici Del centro E per Samuel Otto anni Il primo compleanno Senza mamma E papà Come vi dicevo Il 18 gennaio Fra tre giorni Ci sarà Questo primo anniversario Triste Di questa tragedia Accaduta proprio Il 18 gennaio Dello scorso anno E l'acqua e sapone Ricorda Luana Tre polmoni La società con cui Aveva militato La cuoca Dell'hotel Morta Rigopiano Consegnerà La maglia Numero 10 Ai giocatori Della squadra Di calcio a 5 Montesilvano Questione sicurezza Corsi di difesa Per donne Telecamere Antispaccio Manifestazioni In via l'Europa Del comitato Antidegrado Raccolte 100 Costale Di Bolognano Piccolo centro Ancora Ancora cronaca Tra cronaca Nera e cronaca Giudiziaria Barista Aggredito Da ambulante Abusivo A Lanciano Il gestore Lo hanno lontana Dal locale E il venditore Gli sputa in faccia Gli rompe una mano In centro E caos Dicono Gli esercenti E poi a Chieti Per meglio dire A Torrevecchia Teatina Due passi da Chieti Spaccia cocaina Dai domiciliari Arrestato Operazioni Dei carabinieri A Torrevecchia Sequestrati Quattro cellulari Ora E caccia Ai fornitori Siamo alla pagina Di Teramo Del quotidiano Il centro Campo Tosto I piani Di emergenza Di Galenel Dovrà Aiutare i comuni La regione Raccoglie L'appello Dei sindaci Del Vomano Tratterà Con la società Elettrica Per ottenere Risorse Restiamo In provincia Di Teramo Andiamo a Giulianova E' morto L'imprenditore Cervellini Ha creato Il marchio Di tappeti Elastici Summer Salt E Giocolandia L'unque lutto Nella città Di Giulianova A Teramo Concorsone Per infermieri Attesi 5.000 concorrenti Domani La prova La prima prova Che si terrà A Pesaro Dunque 5.000 concorrenti Per ottenere Un posto Da infermiere Nella Asl Di Teramo Siamo Siamo alla pagina Dell'Aquila Vedete Una foto Dei laboratori Del Gran Sasso Perché oggi Torna il presidente Della Repubblica Sergio Mattarella In Abruzzo Per i 30 anni Proprio Dei laboratori Del Gran Sasso La manifestazione Le 11 Ci sarà Stiamo in Valle Gli ski pass Gli ski pass Non saranno Rimborsati Centro turistico Gran Sasso Critici Palumbo E Romano I dipendenti Sono ancora Senza stipendi E poi Assulmonas Profonda la strada Si allagano Le cantine Disaggi In via Cavallaro I residenti Protestano Per i lavori Eseguiti male E i disagi Siamo arrivati Allo sport Ma dobbiamo andare A vedere Le pagine interne Dell'inserto Abruzzo Del quotidiano Messaggero Ripartiamo Come abbiamo fatto Per il centro Dalla cronaca Di Pescara Si parla Della tragedia Di Rigopiano Vedete Il titolo Di pagina 35 Quanti errori In quelle telefonate Le richieste di soccorso Gestite con poca professionalità Così Tanda Su lupi E acquaviva Segnalati Alla procura Della Repubblica Di Pescara Il comitato vittime Poi ha aggiunto Non cerchiamo colpevoli Vogliamo solo giustizia Giovedì Ci sarà la commemorazione Della tragedia Una giornata Interamente dedicata Quella Del 18 gennaio A questo triste anniversario Ci sarà una prima cerimonia Nella prima parte Della mattinata Proprio nei pressi Dell'hotel Rigopiano Poi il resto Della cerimonia Si terrà Tra la tarda mattinata Ed il pomeriggio Nel palazzetto Dello sport Di penne E poi Carambola In galleria Due feriti A San Silvestro Ritroviamo questo titolo Che riguarda Questo incidente Accaduto Nel primo pomeriggio Dieri La strada Da incubo Ancora Un incidente All'interno Della galleria Della variante Poi vandali In piazza della Repubblica Pescara Il piazzale Della vecchia stazione Le bucono Una gomma Dell'auto Con due siringhe Piene di sangue E poi Banda del buco A Bolognano Vedete Fallisce L'assalto All'ufficio postale Il pronto intervento Dei carabinieri Ha sventato Questo furto Con i ladri Che avevano iniziato Già A forzare La cassaforte E poi Brindisi Per i 50 anni Del Montepulciano D'Abruzzo Passerella Milano Per 90 etichette 44 produttori D'Abruzzo E il primo appuntamento Delle celebrazioni Siamo All'Aquila La convenzione Va riattivata La società Contro l'atto Del comune Che vuole Bandire Una gara pubblica L'accordo fu sospeso Dopo il sisma E c'è il nodo Dei parcheggi A pagamento Parliamo dell'area Del terminal Dell'Aquila E poi Beata Cristina Via da oggi E fino a giovedì Ai festeggiamenti E poi Vedete Gli altri titoli Che riguardano l'Aquila Le dimensioni Di Nardi Biondi sbotta Basta sciacalli E poi Scienze umane Facoltà tra le top In Italia Si apre al mondo Facoltà dell'Ateneo Aquilano E poi in basso Pulman a fuoco Titolare a processo L'incidente avvenne Sotto il traforo Del Gran Sasso E coinvolse 47 ragazzi La pagina di Avezzano Sulmona Droga invece Delle patate Tre arresti Gang di marocchini Finti contadini Sorpresi al fucino Dei carabinieri E ogni richiesta A ogni richiesta Scavano nel campo Ascice e cocaina In grande quantità Oltre 850 grammi Il tesoretto Che è stato sequestrato Dai carabinieri Ancora Avezzano Salviano Gravemente danneggiato Il telescopio Poi Civitella Roveto Don Franco Fa il record 60 anni Da parroco Per questo sacerdote Che dal 58 E parroco Proprio Della chiesa Di Civitella Roveto Davvero Un bel record Per Don Franco Sulmona Ritiro delle dimissioni Le condizioni Della Casini Il sindaco Avrebbe chiesto La testa Della presidente Della casa santa Dell'annunziata Katia Puglielli Leggiamo qui dal messaggero Ancora sul mona Medicina nucleare Paralizzata Proteste Dei cittadini E poi Arrivi Sondo E Alto Sangro Nuovi controlli Del NAS Andiamo alla pagina Di Chieti Del messaggero La rinascita Di Palazzo d'Achille Tra nuovi uffici E arte moderna Vedete il titolo Di apertura Una scultura Caratterizzerà La storia della città L'assessore di Felice Sono stato io A volerla E tornerà a splendere La ceramica di Cascella Sulla gradinata Ed il pannello Donato Da Venezia E poi Da Chieti Ci spostiamo a basto Strade D'Alfonso Ai sindaci Comunicate Le criticità Il consiglio Arriva da Furci In occasione Della riapertura Dell'arteria Verso la Fondovalle In basso Droga e Movida Finisce in manette Con la cocaina Del sabato sera Lanciano Xenofobia Vandalismi e furti Contro gli immigrati Di Villa Elce Siamo alla pagina Di Teramo Del messaggero Brucia edificio Della ASL Arlarme Fumi tossici In città Questo è il titolo Di apertura Della pagina Di Teramo Del messaggero Vigili del fuoco In azione Nella mattinata In zona casalena L'origine E certamente dolosa Affidate all'arta Le analisi Dei residui In nodo Delle case In stato Di abbandono Martinsicuro Ciclovia Dell'Adriatico Il progetto Va avanti Anche l'Abruzzo Farà la sua parte Vertice interregionale Con ottica ambientale Poi A Montorio Premio Ai salvatori Della bambina Mentre a Giulianova C'è il lutto Per la scomparsa Di Pietro Cervellini Ideò Il primo Parco giochi Della città Ancora Giulianova In basso Botte davanti Alla chiesa Li ferma Il parroco Brutto episodio Fra extra comunitari Ieri mattina A San Pietro Decisivo L'intervento Di Don Luca Proprio il parroco Della chiesa Di Giulianova Siamo arrivati Anche Per quanto riguarda L'inserto abruzzo Del messaggero Alle pagine Dello sport Allora possiamo Fermarci Per qualche attimo Andare a vedere Anche le previsioni Del tempo Per le prossime ore Poi torneremo In studio Per la seconda parte Di mattino 6 Interamente Dedicata allo sport Vedremo i servizi Delle gare Dieri Nel campionato Di Serie D Di nuovo in studio Seconda parte Di mattino 6 Apriamo l'ampia Ampissima Pagina sportiva Di ogni Come ogni lunedì Iniziamo con Le prime pagine Dei tre quotidiani Sportivi Partiamo dalla Gazzetta dello sport Il mercato Vedete si fa in Quattro Napoli Verdi Sì che regalo La Gazzetta dello sport Corriere dello sport Sorrisi d'Italia Primo podio Solo azzurro Nella libera Femminile Davvero un risultato storico Per lo sci Del nostro paese Poi scudetto A Napoli Amsic Esclusivo Giochiamo in maniera Meritiamo il titolo Ringrazio Sarri Mi ha cambiato I miei dieci gol Da incorniciare E poi presidenza Della FIGC Lotito Rinuncia a correre Tommasi Gravina E Sibilia Depositano le candidature Il presidente Della Lazio Non trova i voti Necessari E si arrende Tutto sport Mazzari Un giorno Da grande Torino Da superga Ai 2500 Tifosi Del Filadelfia E poi la Juve Tribla Il Napoli Le statistiche Confermano Clamorosamente La profonda differenza Tra le filosofie Di gioco Delle due grandi rivali Gli uomini di Allegri Sono imbattuti Negli uno contro uno La squadra di Sarri Superiore Nel fraseggio Lasciamo Dunque Le prime pagine Dei quotidiani Sportivi Nazionali Possiamo andare a vedere Invece lo sport Che riguarda Le nostre squadre La nostra regione Con la prima pagina Del centro Benali al Crotone Le big Su Elizalde Il mercato Tiene banco Per quanto riguarda Il Pescara Perché Benali Passa al Crotone Entro domani Ci sarà la cessione Dell'Ibico La formazione pitagorica Juve Inter Sul baby difensore Uruguayano Del Pescara Andiamo a vedere Le pagine interne Del centro Il mercato di gennaio Ovviamente Si parte Dalla Serie A Verdi verso Napoli Bologna Su Orsolini Per sostituirlo In Premier League Impresa del Liverpool Primo KO Del City Di Guardiola Dunque l'unica squadra Imbattuta in Europa Resta il Barcellona E noi siamo alle trattative Del Pescara Benali saluta Zeman Inter e Juve Su Elizalde Il Libico in prestito Con diritto di riscatto Al Crotone A fondo Dei Nerazzurri Per il difensore argentino Conteso dalla vecchia Signora Fornasier Avellino Si fa il 17enne Sudamericano Sulle orme di Torrera I grandi club Sono pronti A scatenare l'asta Dunque Elizalde Giocatore Che pur non avendo Praticamente Quasi mai giocato Quest'anno Nel Pescara Di Zeman Evidentemente Fa gola Anzi sicuramente Fa gola A queste grandi squadre Potrebbe ricalcare Le orme Di Torrera Che poi dal Pescara E' andato alla Sampdoria Ma ora è conteso Soprattutto Dall'Inter E dal Juventus Intanto Il Delfino Aspetterà Embalo Fino a mercoledì Scartato Siligardi L'alternativa E' Falco E poi vedete in basso Ecco Gravilon Il Totem Di Guadalupa Sono molto contento Di essere qui La foto Del giocatore Gravilon Mentre firma Il contratto Con il Pescara Come detto Sabato prossimo Si tornerà In campo Per la giornata Di campionato Andiamo a vedere Il quadro completo Ascoli Cittadella Cremonese Parma Empoli Ternana Foggia Pescara Frosinone Provercelli Novara Carpi Perugia Entella Salernitana Venezia E poi alle 18 Spezia Palermo Alle 20 e 30 Cesena Bari E poi domenica Alle 15 Il posticipo Brescia Avellino Andiamo a vedere La pagina Che riguarda Il Teramo Caidi Il caso Vicenza Non ci distrae Il difensore Biancorosso Sul possibile Sciopero De Veneti Mercato Per Carletti Bisogna Attendere Andiamo a vedere Andiamo a vedere Anche il messaggero Come parla Del Pescara Benali Al Crotone Ormai cosa fatta E poi Gravillon Saluto Social Malarosa È ancora Da sfoltire Il rugby L'Aquila A Chieti Per organizzare La prossima Federation Cup Di febbraio E dunque Ci sarà questa Importante Apparizione Del grande Tennis Nella nostra Regione Si stanno Ovviamente Preparando Si sta preparando Nei dettagli Questa Manifestazione Andiamo Alla pagina Della serie D E partiamo In questo caso Come fa il messaggero Dal Pineto Il Pineto Al fotofinish Butta Alle ortiche La vittoria San Marino La gestione Dei minuti Di recupero Ancora fatale Al team Di Daniele Amaulo Pensate che Il Pineto A pochi minuti Dal termine Conduceva Per 3 a 1 Poi La rete Le due reti Di 5 Al 47esimo E al 50esimo Del secondo tempo Dunque In pieno Recupero Con il pareggio Davvero In extremis Della formazione San Marinese Allora Andiamo a vedere Cosa è successo Allo stadio Olimpico Di Serravalle Nel servizio Della nostra Roberta Di Sante Sfuma il colpaccio Alpineto Che in vantaggio Di due reti Nella Repubblica Del Titano Si fa prima rimontare E poi Riacciuffare In pieno recupero Dal San Marino Di Medri Alla sua terza partita Senza sconfitte Alla guida Dei Biancazzurri Il neo allenatore Conferma la stessa Formazione Che ha espugnato Domenica scorsa L'Aragona Con l'esperto Pestrin A dirigere Il centrocampo E Bugaro Dietro la coppia Longobardi 5 Mentre dalla parte opposta Maolo recupera Capitan Pomante In difesa E Conzane E Pezzotti In panchina Conferma Mariani E Marianeschi In mediana In avanti Con Gragnoli Squalificato Il centrale E Tomassini L'avvio dei Titani È arrembante La formazione di casa Approccia al meglio La partita Tenendo bene il campo E giocando a memoria Meritato il vantaggio Al decimo Con cinque Che sorprende La retroguardia Pinetese E di giustezza Piazza la sfera Alle spalle di Giacchetta E al sedicesimo Potrebbe anche Raddoppiare Quando sugli sviluppi Della punizione Calciata da Pestrin Gadda spedisce Sopra la traversa Nel momento migliore Dei locali però Mariani Estrae dal cilindro La sorpresa Che non ti aspetti Un eurogolla Di introciare Che si insacca Sotto il sette E non lascia scampo Gelando lo stadium Il San Marino Accusa il colpo E si disunisce Il Pineto Prende coraggio E conquista campo Alla mezz'ora Tomassini Lancia Ciarcelluti Che però calcia Fallato Al trentaduesimo La gerata di Esposito E preda di Fall Il primo tempo Termina così Sul parziale Di uno a uno Ma rientro dagli spogliatoi Il San Marino E la copia sbiadita Di quello Dei primi venti minuti E il Pineto Ne approfitta Al sesto Esposito Fa le prove Per il gol Del sorpasso Che si concretizza Un minuto più tardi Quando il centrocampista E abilissimo A fintare Liberandosi Di due avversari E ribaltare il risultato La reazione del San Marino Al diciannovesimo Sugli sviluppi del corner Di Nappello Di Maio Spizza per Ceccarelli Che da due passi Chiama al miracolo Giacchetta Al ventiduesimo Amaolo Richiama di Rocco Per Pezzotti E proprio l'esperto Esterno Ex Samba Al trentatreesimo Si fa una gran sgroppata Sulla sinistra E mette in condizione Tomassini Di siglare il contropiede Il 3 a 1 In favore degli abruzzesi La gara Sembra chiusa E il Pineto Assapora già La gioia della vittoria Ma i minuti finali Sono fatali agli adriatici In pieno recupero Al quarantottesimo Il neo entrato Guidi Si inventa un gol Da Cineteca Fa il pari con Mariani E riapre i giochi A due minuti dal termine Ora il San Marino Si butta in avanti Alla disperata E l'ultima palla utile Premia i ragazzi di Medri Al cinquantesimo Proprio sul triplice fischio Dell'arbitro Rinaldi Il tapin vincente Di 5 Regala la gioia Di un isperato pari Ai titani E l'ex Chieti In cornice Alla giornata Con la doppietta personale Si strozza in gola L'urlo dei sostenitori Pinettesi Al seguito della squadra Per una vittoria Che sembrava ormai In ghiaccio Tanta amarezza In casa Pineto Per i due punti persi Che avrebbero valso L'ingresso prepotente In zona playoff Alla compagine Del presidente Brocco Resta la consolazione Del quindicesimo Risultato utile Consecutivo In attesa Della trasferta All'Aragona di Vasto Avevo parlato Di una doppietta Di 5 Nel finale Invece 5 ha realizzato Avete visto Tra l'altro Che gol La rete Del 3 a 3 Precedentemente Era stato Guidi A segnare Invece Il 2 a 3 L'Aquila Un pari palpitante Siamo alla gara Del Gran Sasso D'Italia Finisce 2 a 2 Con la corazzata Vispesaro Soddisfazione Per aver ottenuto Il pareggio In 10 Vediamo come Anche il centro Commenta Il pareggio Ottenuto Fra l'Aquila E Pesaro 2 a 2 Il finale L'Aquila In 10 Riacciuffa La Vispesaro Due volte in svantaggio Con la vice capolista I rosso-blu Impattano Grazie alle reti Di Boucher Poi espulso E di Boldrini Battistini Capriola Di felicità Al 91 Una botta di vita L'esultanza Del tecnico Dopo il punto Ottenuto In rimonta Ha detto Battistini Ci abbiamo creduto Fino in fondo Allora andiamo a vedere Le immagini di questa Avvincente sfida Del Gran Sasso D'Italia 2 a 2 Il finale Fra l'Aquila E Vispesaro Una L'Aquila Indomita Strappa Un pareggio Tutto cuore 2 a 2 In inferiorità numerica E ferma la corsa Verso il primato Della Vispesaro Che per alcuni minuti Aveva acciuffato Il virtuale primo posto Per poi chiudere La giornata A meno 3 Dal Matelica Una prestazione Che dice tanto Di un gruppo Che continua A onorare La maglia Nonostante i problemi Extracampo Nella settimana In cui il patron Chiodi Aveva rotto Il lungo silenzio E che portava Al match Contro la squadra Numeria la mano Più forte Nelle gare in trasferta Vispesaro Senza gli squalificati Carta e Olcese Al loro posto Ridolfi e Cruz Che saranno anche I marcatori di giornata Dei marchigiani Rispetto alla gara Col Monticelli Battisini Lascia in panchina Marra e Padovani Per fare spazio A Ibe e Boucher Quest'ultimo Protagonista della gara Nel bene e nel male Dopo due minuti Wilson Cruz Si conferma L'uomo del momento Della Vispesaro Firmando il gol Dell'immediato vantaggio Dei marchigiani Colpo di testa Del centroavanti Brasiliano Ben imbeccato Da Buonocunto Che non lascia scampo A Farroni L'Aquila c'è E prova a rispondere Subito al decimo Con la sventola di Caffiero Disinnescata da Marfella Dopo metà tempo Azione caparbia Di Ibe Che non centra alla porta Anche perché Disturbato da Radi Alla mezz'ora Risponde la Vispesaro Con Cruz Che sfiora la doppietta Sulla punizione Di Caccioli E decisivo L'anticipo di Pupeschi Rischia ancora l'Aquila Due minuti dall'intervallo Ripartenza a Vissina Cruz serve Baldazzi Che però spreca All'intervallo È 0-1 Ma nella ripresa L'Aquila si rifà subito sotto Il colpo di testa Di Caffiero Al secondo È il prologo Del pareggio Che arriva al minuto Numero 6 Il merito Di Boucher Che concretizza Un'azione insistita Degli uomini Di Battistini L'esultanza Con maglia sfilata Costa il giallo A Boucher Fatto che inciderà Successivamente La Vispesaro però Non accusa il colpo E dopo 7 minuti Torna in vantaggio Il merito È di Ridolfi Che finalizza Un'azione Nella quale Paoli aveva concluso Una prima volta Sugli sviluppi Ridolfi Di Bellini La mazzata è doppia Per l'Aquila Che a metà ripresa Resta in 10 Biffi di Treviglio Ravvista una simulazione Di Boucher Secondo giallo Ed espulsione Per l'autore Del momentaneo 1 a 1 L'Aquila vacilla Al 25esimo Baldazzi Trova il terzo gol Annullato per posizione Di fuorigioco I Rosso Blu Hanno il merito Di non crollare E di restare Aggrappati al match Così dopo la girandola Di Cambi E a un minuto Dal novantesimo Boldrini Con una fucilata Dal limite Fa secco Marfella E regala Ai suoi Un 2 a 2 Quasi insperato Che sta tanto Di occasione Persa per la Vispesaro E di piccola Impresa per l'Aquila Che tiene alto Il morale E resta in scia Al quinto posto Distante Appena tre lunghezze Questo è il servizio Sull'Aquila Vispesaro Ma quella di ieri È stata la giornata Soprattutto del derby Dei Marsi Il derby del Girone F Uno dei due Tra l'altro Di giornata Tra Avezzano e Vastese Gara molto sentita Gara partita Vietata Per motivi di ordine pubblico Ai tifosi Aragonesi Vittoria Con il brivido Come titola Anche il centro Per la formazione In maglia verde Dell'Avezzano Tre a due Con un finale Che ha rischiato Davvero di avere Del clamoroso Avezzano Che fino a dieci minuti Dal termine Conduceva per Tre a zero E che ha rischiato Di pareggiare Una partita Che sembrava già chiusa Due gol Dell'Avastese In poco più di un minuto Poi palo di Leonetti Per il possibile Tre a tre Allora andiamo a vedere Cosa è successo In questa gara Davvero incredibile Del Dei Marsi Nel servizio Sorride L'Avezzano L'atteso derby Del Dei Marsi I ragazzi Del presidente Paris Hanno conquistato L'intera posta Superando L'Avastese Con il risultato Di tre a due Dopo novanta minuti Incredibili Con gli ospiti Capaci di riaprire In un minuto Nel finale Il match E rischiando anche Di pareggiare La contesa Se non fosse stato Per il palo Di Leonetti A pochi minuti Dal termine Successo meritato Nel complesso Per i biancoverdi Al cospetto Dei biancorossi Ospiti Apparsi Non al meglio Della condizione Così come Nella gara Con il San Marino Il nuovo anno Non ha ancora portato Punti All'Avastese Ma ora c'è tutto Il tempo Per rimediare Padrone di casa Con il 4-4-2 Con Lombardi A difesa Della porta Fanti In panchina Assente Pollino Fra gli ospiti Con il 4-3-3 Subito In campo Dal primo minuto Gli ultimi due arrivati Cane E Maronilli Chiuso il settore Ospiti Per decisione Della prefettura Questura dell'Aquila Per motivi Di ordine pubblico Sugli spalti Circa 700 Spettatori Squadre Agli ordini Del signor Boscarino Di Siracusa Al settimo Azione In velocità Per l'Avezzano E palla Per Cerone Che di potenza Chiama Camerlengo Al salvataggio In calcio d'angolo Al quattordicesimo La risposta Ospiti Affidata Stivaletta Che spizzica Di testa Su cross Dell'ex Bipotai E con la palla Che poi termina Di pochissimo A lato I primi minuti Mettono in vetrina Due squadre volitive Soprattutto Molto propositive Ancora Avezzano Pericoloso Al diciassettesimo Con un tiro Insidioso Di Bisegna Che dai 30 metri Impegna Camerlengo Passano 4 minuti La squadra Marsicana Trova il vantaggio Grazie a Dos Santos Che praticamente A porta vuota Non sbaglia Regalando il vantaggio Alla sua squadra E facendo esplodere La gioia Dei supporters Avezzanesi Sugli spalti Doccia gelata Per la squadra Ospite Che rischia anche Al ventiquattresimo Con una conclusione Insidiosa Di Pellecchia Che poi ci riprova Due minuti dopo Trovando la parata Del portiere Della Vastese Al trentottesimo Si scalda un derby Fino a quel momento Tranquillo Con De Chiara Che viene spulso Da Boscarino Di Siracusa Per un brutto fallo Su Pellecchia Che poi provoca Una mega rissa In campo Fra i giocatori Delle due squadre Sedata dal direttore Di gara siciliano Ospiti che restano Così in dieci Per i restanti minuti Del primo tempo E per tutta la ripresa Con la squadra Di Federico Giampaolo Che ne approfitta subito Per andare a colpirne Per la seconda volta Grazie a Deramo Che in area non sbaglia Per il 2-0 Con cui si chiude Il primo tempo La ripresa Si apre Con l'ingresso In campo Nella Vastese Di Casciani Per Fiore Al settimo Viene ristabilita Poi la parità numerica Per l'espulsione Di Deramo Per doppio giallo Sulla seguente Punizione Amelio impegna Lombardi In calcio d'angolo Ma per la squadra Aragonese Che non è giornata Si capisce Al ventunesimo Quando nella più classica Delle azioni Di controfiede Pellecchia Si invola tutto solo Verso la porta Di Camerlengo Che viene poi trafitto Con un tiro Non forte Ma angolato Per gli Aragonesi È una mazzata Che ha il sapore Quasi della resa Anticipata Al ventitresimo Però la squadra Di Colavitto Ci prova Con un tiro Centrale Di Stivaletta Che non crea Grossi problemi All'estremo Marsicano Fanno intanto Festa sugli spalti I tifosi di casa Che pregustano Un successo Importante Al ventiquattresimo Cerone sfiora Il poker Con l'estremo Ospite Che dice no Andando a spedire La sfera In calcio d'angolo Al trentunesimo L'Avastese Ci riprova Ma sulla conclusione Di Leonetti Il Palo E Lombardi Negano il gol Al bomber Biancorosso Ma il derby Non è affatto finito Perché al trentacinquesimo Di testa Sugli sviluppi Di un calcio d'angolo De Feo Fa 3 a 1 E 60 secondi dopo E Leonetti Che va a realizzare Il gol Del 3 a 2 Che riapre Una gara Che sembrava Definitivamente chiusa I ragazzi Di Gianluca Colavitto Ci credono E al quarantunesimo E ancora il palo A negare a Leonetti La rete Del 3 a 3 Gara dalle mille emozioni Visto che qualche attimo Dopo E Dos Santos Dall'altra parte A spedire la palla Di poco sopra la traversa Ultima emozione Al quarantottesimo Con il neoentrato tedesco Che conclude Da posizione defilata Sull'esterno Della rete E dopo 4 minuti Di recupero Può così esplodere La festa Dei tifosi bianco-verdi Sotto la curva nord Per un successo Di platino Che avvicina Per l'Avezzano Il terzo posto Per l'Avastese Resta l'amarezza Per un pareggio Che sembrava utopia Fino a 10 minuti Dal termine E che non è arrivato Per colpa dei legni Della porta marsicana Da rivedere La prova in generale Della squadra Di Colavitto Che però ha fatto Vedere una grande reazione Nel finale Che lascia ben sperare Per il prosieguo Della stagione Per la formazione Del presidente Paris Una vittoria Che potrebbe davvero Cambiare la stagione Le dichiarazioni del 91esimo Giampaolo Il tecnico marsicano Braccino corto Ma tre punti fondamentali Questa l'analisi Del trainer avezzanese E poi lo sfogo Del presidente Paris Pochi tifosi Prenderò altre decisioni Tra l'altro Il divieto Per i tifosi ospiti Ha negato Diciamo Poi le parole Del tecnico Della vastese Colavitto Potevamo recuperare Il tecnico Biancorosso Rammaricato Ora lavoriamo Per ritrovare Serenità E siamo All'altro derby All'altro derby Di giornata Disputato Al Valle Anzuca Di Francavilla Dove i giallorossi Di casa Hanno battuto Di misura Soffrendo Il nero stellati Il gol vittoria In apertura Di Romeo Al quinto minuto Al novantunesimo Iervese Dice Sapevo Che sarebbe stata Una gara sofferta E in tribuna Lo vedete Nella foto Di spalla Dalla parte opposta Era presente Antonio Meccomonaco Candidato A guidare La formazione Peligna Ma bisognerà Attendere Proprio le decisioni Di Meccomonaco Che riflette Che entro oggi Dovrà dare Una risposta Ma noi facciamo Parlare le immagini Di questa partita Di questo derby Giocato tra Francavilla E Nero Stellati Servizio curato Dania Cantagalli Settimo risultato utile Consecutivo Per il Francavilla A cui basse Il gol di Romeo Inizio gara Per prendersi Una vittoria Sui Nero Stellati Che a conti fatti Avrebbero meritato Anche qualcosa in più A fine partita E un Francavilla Falcidiato dalle assenze Quello che scende in campo Al Valle Anzuca Fuori a Lexic Mele e a Menta Con zerbo squalificato E dipinto Fermato in mattinata Dall'influenza I Nero Stellati Invece dopo le dimissioni Di Di Marzio Ed in attesa Della firma di Meco Monaco Presente in tribuna Per assistere alla gara Mandano in panchina Il tecnico Delle Giovannini Sant'Angelo Per cercare punti Importanti In chiave salvezza La gara non inizia bene Però per i pratolani Perché dagli sviluppi Di un calcio d'angolo Parente si fa sorprendere Sul secondo palo Da una parabola Palumbella Che prima si stampa Sul legno E trova poi Romeo Più rapido di tutti A ribattere in rete Prima nel quarto d'ora di gioco Procida vede Il movimento in mezzo Di Palumbo Il cui tentativo Però finisce Di un soffio sul fondo I Nero Stellati Sono vivi E lo fanno vedere Al diciottesimo Conè Prova ad armare Azzurov Il cui colpo di testa Finisce alto Sulla traversa Il Francavilla Mostra qualche difficoltà In fase di impostazione Mentre Vitone Dall'altra parte Vede il movimento Di Conè Che beffa sulla corsa Di Pietrantonio Ma il suo diagonale Poi è troppo angolato Ancora Pratolani Al trentacinquesimo Con Del Gizzi Che serve Azzurov La cui sponda Non è sfruttata Al meglio Da Vitone Due minuti più tardi Vitone serve Sul movimento pacella Ma il tentativo Successivo di Gasparotto È troppo debole Per impensierire Spacca La ripresa Vede ancora I Nero Stellati Mettere sul campo Di gioco Un atteggiamento Propositivo Mentre Iervese Prova a giocarsi La carta Fofanà Che prende il posto Di Banegas Per cercare Di rendere Più pericolosi Giallorossi in avanti Ed è proprio L'attaccante Ad avere Una buona occasione Al venticinquesimo Con un diagonale Che finisce Di poco a lato Dopo la mezz'ora La palla buona Per il raddoppio C'è la Palumbo Lanciata in ripartenza Degli sviluppi Di un calcio d'angolo Dei Nero Stellati Ma il tentativo Del giocatore giallorosso Finisce alto I Prattolani Tentano il tutto Per tutto Prima della fine Con Benjamin Protagonista Prima nel servire Bruni Poco cattivo Però in area E poi in prima persona Con un tiro Sul primo palo Che si spegne a lato È l'ultima occasione Del match Prima di vedere Il Francavilla Festeggiare I giallorossi Attendono adesso La decisione Del giudice sportivo Prevista per mercoledì Che potrebbe dare Tre punti al tavolino Alla formazione Di Iervese Dopo il rinvio Della gara di Castel di Lama Di metà dicembre Contro il Monticelli Per i Nero Stellati Invece È arrivato il momento Di fare punti importanti Per la salvezza E questo il servizio Sul derby Tra Francavilla E Nero Stellati Vediamo Dalle pagine del centro I titoli che riguardano La beffa del Pineto Abbiamo visto prima Il servizio di Roberta Di Sante Sfuma l'impresa Contro il San Marino E poi Invece La sconfitta Secondo pronostico Se così si può dire Del San Nicolò Che perde per 2 a 0 Sul campo Del Matelica Che ha riscattato Invece Il passo falso Della domenica precedente Il Matelica regola Tiboni e compagni Con una rete per tempo Cannella para un rigore Ed evita un passivo Più pesante I gol per la formazione Di casa Sono stati realizzati Dal solito Magrassi E da Lo Sicco Al 91esimo Montani Il tecnico Della formazione Biancazzurra Dice Soddisfatto per la prova L'allenatore Terramano Non è qui Che costruiamo la salvezza Chiaramente Partita Sulla carta Quasi proibitiva Per il San Nicolò Siamo al campionato Regionale Di eccellenza Le gare Della ventunesima Giornata Con il Real Giulianova Che prosegue Spedito il cammino In testa Alla classifica Un tris d'autore Per i giallorossi Che hanno battuto Al Fadini Per 3 a 0 Lo spoltore I gol di Tozzi Borsoi Pagliuca E Francia Piccioni Buona gara Abbiamo meritato Detto al 91esimo Il trainer Giuliese Vediamo le altre partite Cupello River Chieti 65 2 a 1 Torrese Sambuceto 1 a 0 Montori 88 Paterno 1 a 1 E poi la vittoria Del Chieti Di misura Colla Miternina Quarto successo Di fila E poi Martinsicuro Angolana Pareggio Son Di gol 2 a 2 Capistrello Penne 0 a 1 Acqua e Sapone Alba Adriatica 0 a 2 Miglianico San Salvo 0 a 0 Vediamo anche i risultati Dei due gironi Del campionato Regionale Di promozione Partiamo dal Raggruppamento A Cologna Virtus Teramo 1 a 1 Ponte Vomano Mosciano 1 a 1 Fontanelle Nuova Sant'Egidiese 0 a 0 Pucetta San Gregorio 2 a 0 Morrodoro Alba Montaurei 2 a 0 Mutignano Luco 2 a 3 Tossiciano Notaresco 1 a 1 Piano Piano Della Lente Rosetana 0 a 3 Sant'Omero Palmense Celano Marsica 0 a 0 Vediamo anche i risultati Del girone B Il Delfino Pescara Villa 2015 1 a 1 Virtus Pratola Ortona 0 a 1 Palombaro Casalbordino 0 a 2 Piazzano Bucchianico 4 a 1 Sportland Celano Fater 2 a 0 Raiano Valdisangro 2 a 3 Fossa Cesia Sulmona 0 a 2 Castiglione Valfino Real Treciminiere 1 a 2 Raiano Valdisangro 2 a 3 Passo Cordone Casolana 0 a 1 Vediamo anche la classifica per le prime posizioni dei due campionati regionali in eccellenza Giulianova al comando con 46 punti Chieti 41 Martinsicuro 39 in coda ultimo San Salvo con 11 punti poi River Chieti Miglianico 15 in promozione Girone A al comando c'è il Ponte Vomano con 47 punti poi Luco 42 Virtus Teramo 41 In basso il Tossicia chiude con 12 punti un gradino più in alto c'è il notaresco a 13 Promozione Girone B al comando una coppia Valdisangro e Delfino Pescara con 42 punti tallonate dall'Ortona 41 in coda Palombaro 10 Celano e Passo Cordone 20 punti Andiamo a vedere, parliamo di altri sport, andiamo a vedere quello che è successo nel campionato di volley Ecco qui la pagina, pagina 42 il campionato di volley di serie a 2 maschile il Girone Blu con la Sieco che rialza la testa dopo 5 KO Vittoria importante per gli ortonesi che battono per 3 a 2 al tie break il Mosca Bolzano I parziali 18-25, 25-21, 25-14, 22-25, 15-9 per la formazione ortonese Una vittoria fondamentale per la classifica ma anche per il morale Dopo 5 sconfitte consecutive l'Ortona che sale a quota 25 in classifica Bolzano che resta all'ultimo posto con 17 punti Ma era fondamentale vincere per la formazione ortonese che nel prossimo turno giocherà sul parquet il 20 gennaio, sul parquet del Brescia Andiamo ancora avanti, siamo al basket di serie a 2, aveva giocato in anticipo e perso il Roseto a Ravenna Sei gare ora per capire se la salvezza è possibile per la formazione rosetana Vediamo la classifica con Roseto a 4 punti, Bergamo e Orzinuovi a 6 nel prossimo turno, il 21 gennaio Il Roseto giocherà in casa con Montegranaro, una delle squadre più forti del Girone Andiamo ancora avanti e parliamo del campionato di serie B di pallacanestro Con una giornata non proprio felicissima, anzi tutt'altro per le nostre formazioni L'Amatori si inchina allo strapotere del Sansevero, 101 a 65 Il finale per la corazzata pugliese che si avvia a vincere a mani basse il Girone Poi perde, vedete in alto anche Ortona in terra marchigiana a Fabriano per 75 a 64 Perde anche il Teramo 71 a 63 sul parquet del Re Canati Giulianova invece ritrova la vittoria in casa dopo 90 giorni Pensate dopo 3 mesi, Giulianova che ha battuto Cerignola per 71 a 61 E poi vince anche Campli che non smette di stupire e batte Valdiceppo per 81 a 67 Dunque 3 sconfitte e 2 vittorie per le formazioni abruzzesi di serie B E poi il rugby, siamo quasi in chiusura Un KO in dolore per l'Aquila che perde per 26 a 20 sul parquet del Benevento Ma ora si pensa alla seconda fase Il tecnico Rottiglio, finora il bilancio è positivo Attesa per l'Argentino Viacava Invece per il Gran Sasso sconfitta in Umbria sul campo del Cus Perugia Il Gran Sasso che aveva, tra l'altro, vedeva ieri il debutto in campo di Cortesi Siamo così giunti al termine, sono le 9 in punto, le 9 un minuto Siamo giunti al termine dell'appuntamento il primo della settimana con Mattino 6 Che tornerà domani puntuale alle 8 Io ringrazio Claudio Di Giacomo in regia Ringrazio voi per averci seguito E vi do appuntamento alle 14 per la prima edizione del nostro telegiornale Grazie e buona giornata Grazie a tutti